Sotto la pioggia stamattina l'ultimo saluto a Martina Svilpo Bionda, come se anche il cielo avesse voluto versare le sue lacrime insieme a quelle della famiglia, degli amici, del paese, della valle e dell'ossola intera per questa giovane vita spezzata lo scorso sabato sul Monte Rosa. La bara con rose bianche, gialle e rosa è arrivata al santuario di Anzino portata a spalla dagli amici. Dietro al feretro, la famiglia, i parenti, le amiche di Martina con in mano una rosa bianca, altri amici e tante persone che la conoscevano e che hanno voluto accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Un dolore profondo ma composto permeava il piccolo centro della valle Anzasca. Il parroco Don Fabrizio Cammelli ha voluto sottolineare il messaggio lasciato da Martina, una ragazza che tanto amava la montagna, quella stessa montagna che se l'è portata via a soli 29 anni. Il sacerdote ha spiegato che Martina ci ha insegnato a non tirare a campare ma a vivere la vita a pieno, vivere davvero. Troppo piccolo il santuario per accogliere tutte le persone intervenute, in tanti hanno seguito la celebrazione all'esterno. All'uscita dal santuario l'abbraccio ideale a Martina e le note della canzone in canto di Tiziano Ferro. Nel pomeriggio a Masera le esequie di Paola Viscardi, anche qui il paese si è stretto attorno alla famiglia in un momento di dolore profondo e composto. Sulla bara di legno chiaro, rose bianche sfumate di rosa e un cuore. C'era anche Valerio Zolla che era con Paola e Martina sabato sul Monte Rosa, unico sopravvissuto alla tragedia, accanto alla famiglia di Paola e ai parenti, i concittadini e gli amici. Durante la funzione il parroco ha citato le parole di Giovanni Paolo II, anche egli grande amante della montagna, rimandando a quelle vette che suscitano nel cuore il senso dell'infinito con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime. Quindi sono stati gli amici con la voce rotta dalla commozione a ricordare la 28enne tragicamente scomparsa. Potremmo stare giorni interi a raccontare quello che abbiamo fatto insieme, hanno detto aggiungendo si pensa sempre che ci sia tempo per vederci, per fare le cose. Hanno ricordato Paola come una ragazza che dava il 100% in tutto quello che faceva come un'amica leale. Anche qui troppo piccola la chiesa di Masera per contenere tutte le persone intervenute, molte hanno atteso all'esterno. Torneremo ad abbracciarci così e su nelle nostre montagne, scriveva su Facebook Paola rivolta a Martina sotto quella foto che ormai tutti conosciamo e che in una sola immagine racconta la loro amicizia e la loro passione e allora proprio così vogliamo immaginarla in questo momento insieme strette l'una all'altra in quel blu del cielo che tanto amavano.